consentitemi ora di parteciparvi un grande evento e di nuovo fra noi ritemprato nel corpo e nello spirito il caro amato stimato professor pippo bottini reduce dalle patrie galere ma che è successo che hanno promosso dopo tre mesi di galera si è diventato qualcuno caro professore vedo che il corso d'aggiornamento le ha fatto bene come è stato tra i galeo tra gli operatori carcerari un po ristretto ristretto forse nel corpo ma avrà constatato che il contatto con i colleghi reclusi serve moltissimo ad allargare la mente beh a volte non solo la mente bene bene anche quelle sono esperienze validissime l'importante è partecipare come disse l'inventore dell'ammucchiata ben detto professore adesso a lei l'onore di aprire il ballo di fine anno musica prima parivi un pischeletto parivi un uccelletto spaventato ero un fiore delicato una mammola un giaggiolo o che ne so mammo mammo che sei in avanzo di galera me fai morì me fai morì stasera amore mio chissà che mi è successo so sempre quello ma non so più fesso non so più l'uomo di quel tempo antico ammazza che perfigo che c'hai il mio ragazzo è un dritto il tuo ragazzo è ok il mio ragazzo mone vale sei il tuo ragazzo è un fusto il mio ragazzo è un asso il tuo ragazzo è un cuore come un sasso il mio ragazzo micchia è un uro e un prevalente e manda all'ospedale tanta gente se al mio ragazzo tu gli dici no ti mette come niente cappò mammo mammo che sei in avanzo di galera diventerai il re della valera con gli altri maschi me girava storta mammo tu si tu si che mai traborda catamolo so bello e traditore tu sei la borsa io sono lo scippatore io montebio te sbatto il testro pazzo ammazza che rigazzo che c'hai il tuo ragazzo è ok il mio ragazzo mone vale sei il tuo ragazzo è un posso il mio ragazzo è un asso il tuo ragazzo è un cuore come un sasso Il mio ragazzo micchia è un duro e un preveniente E manda all'ospedale tanta gente Se al mio ragazzo tu gli dici no Divente conveniente K.O.